Musica Ciao a tutti patatini e patatine e benvenuti in questo nuovissimo video In questo video da come avete letto dal titolo vi parlo di capelli Su come ottengo questo capello liscissimo, morbidissimo e luminosissimo Questo video in collaborazione con GHD che mi ha gentilmente proposto di provare questi prodotti E parlarvene sul mio canale, sul mio blog Infatti se vi interessa trovate nell'info box il link per andare direttamente sul mio blog Dove ve ne parlo meglio, dove descrivo meglio i prodotti Come ottenere questi capelli lisci Insomma il liscio è sempre stato un po' il pallino di tutte Diciamo che anche chi ce li ha lisci di natura ha sempre amato il liscio, quello sano, morbido, luminoso Un capello perfetto In questo video oltre a parlarvi della mia personale esperienza con questi prodotti Vi parlo anche, vi faccio vedere anche come ottengo questi capelli utilizzando questi prodotti La protagonista di tutte, quindi la prima che vi faccio vedere è la GHD Platinum Che è appunto la styler per ottenere i capelli lisci o mossi Insomma per fare qualsiasi acconciatura vogliate Come sapete, breve premessa Come sapete io la GHD la conosco oramai da anni Io ho sempre adorato GHD e la sostengo da una vita Infatti tutte le volte che mi vedete i capelli in qualche modo Che mi dite, oh mio dio Gloria ma come fai ad averceli così? Sembrano morbidi O quando mi incontrate per strada e mi toccate e mi dite caspita ma con tutto quello che ci fai ce li hai morbidissimi E grazie alla GHD Per la maggior parte grazie alla GHD Proprio perché io di mio avendo un capello grosso è molto difficile tenerlo a bada quando è tanto tanto sfruttato Parlando di questa piastra, la Platinum A parte che è stupenda, è bellissima, il design è veramente super super figo Si raffredda veramente molto velocemente, l'ho usata tipo cos'è 10 minuti fa oramai Ho notato che è cambiato il tastino di accensione Questa volta c'è un pulsantino, come ogni GHD Questa quando si accende ci vogliono veramente pochissimi secondi Ora che arriva alla temperatura ideale per iniziare a piastrare i capelli Ed emette un suono La differenza di questa con le altre piastre è che ha cambiato il suono Ho notato Prima aveva il classico pipi La particolarità della Platinum è che ha le lamelle Che a differenza delle altre che io ho provato Queste sembrano studiate in modo che il capello non esca ai lati delle lamelle Sono talmente intelligenti che controllano loro la gradazione perfetta per il vostro capello E non va a rovinarli in questo modo Perché se ovviamente alzate la gradazione il capello si brucia La funzione 3-zone si chiama Che praticamente ha tre sensori all'interno delle lamelle Mantengono la temperatura costante Quindi avendo sempre questi sensori posizionati lì Ogni volta che voi andate sul capello mantengono questa temperatura Anche questa ha la versione slip mod Che sarebbe la modalità antipanico la chiamo io Perché mi è successo Non pensavo mi sarebbe mai accaduto Invece mi è successo L'avevo dimenticata in bagno per un buon dieci minuti Oh mio dio la piastra Sono andata in bagno ed era praticamente raffreddata Ed è appunto entrata in modalità slip Quindi si era addormentata apposta per non fare danni E la cosa figa a differenza della pink Che ho del modello precedente È che questa volta il coprilamelle È tipo in questo silicone Che è resistente al calore Tra l'altro per l'acquisto di un apparecchio elettrico GHD Quindi che può essere una styler o qualsiasi altro prodotto elettrico In regalo c'è la borsa La bag Questa bellissima bag Che tra l'altro io ultimamente sono pure in fissa Con questi colori bianco nero e grigio Come potete vedere È veramente enorme Dovrebbe essere anche un po' impermeabile Perché questo tessuto proprio da classica borsa Che si può utilizzare anche per il mare È veramente comodo Passando poi a questo prodotto Questo prodotto è un prodotto fichissimo Quando me ne hanno parlato Io ho detto Oddio non vedo l'ora di provarlo Questa è già la seconda volta che lo provo Proprio perché la prima volta volevo provarlo per me stessa Insomma per parlarvene un po' meglio Questa è una crema Si chiama Advanced Split and Therapy Che è una crema per le doppie punte Andate ad applicare la crema solo sulle punte Non qui Non qui Ma qui Solo sulle punte Potreste tirarlo un po' più su Ovviamente se avete i capelli scalati Non avete il taglio netto Quindi sapete di applicarlo solo sulle punte Se avete il taglio scalato Magari andate anche un pochino sulle lunghezze Ma non troppo Appositamente per le punte Proprio perché toglie le doppie punte Vedo che le punte si stanno risanando Io come sapete li ho decolorati tantissimo Soprattutto la parrucchiera che mi aveva rovinati Purtroppo Mi ha praticamente disintegrato tutte le punte Infatti ogni volta che li lavavo Li spazzolavo Li fonavo Perdevo pezzi di capelli Infatti mi si sono accorciati tantissimo Questa seconda volta che già ho utilizzato questa crema Noto che le mie punte sono migliorate di gran lunga Perché quando prima vediamo anche la punta spezzata Con quei pallini bianchi classici che si sa per spezzare il capello Le biforcazioni di anche 5 punte in un capello Veramente Noto che le mie punte sono molto più sane Vedo veramente pochissime punte rovinate E pochissimi pallini bianchi A fine alla fine delle punte Quindi una cosa pazzesca Riesce anche a lasciarvi il capello corposo Questo prodotto non deve evaporare Non deve evaporare fino al momento dello styling con la platinum Perché andrà a sigillare il prodotto sul capello E quindi il prodotto agirà Durante il video vedete anche l'utilizzo di questo phon qua Che si chiama GHT Air Che è questo phon dal design super super russuoso Come vedete Ha delle caratteristiche che mi piacciono tantissimo Soprattutto il posizionamento di questi bottoni d'accensione aria calda Maggiori dettagli nell'info box Nel link che trovate per andare al post sul mio blog Adesso vi faccio vedere come ottenere Come ho ottenuto questi capelli qui Spero che questo mini tutorial vi piaccia Spero che questo video vi sia stato utile Se avete altre domande Scrivetemi pure nei commenti Vi mando un grosso bacio Ringrazio GHT per questa collaborazione E questi fantastici prodotti E un grazie anche a voi Quindi vi mando un bacio Buona visione Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti